presso la stazione Perage di Lione è stato fermato e arrestato dalla polizia francese Bellocco Michele, classe 96 rosarnese. Le indagini condotte dalla compagnia di Gioia Tauro con l'apporto qualificato dello squadrone riportato cacciatori Calabria erano partite dal novembre 2021, quando proprio il Bellocco si era arbitrariamente sottratto alla misura degli arresti domiciliari su cui era sottoposto in Rosarno, probabilmente nella consapevolezza della possibilità di una sentenza definitiva per cumulo pene diventata poi effettivamente esecutiva qualche mese dopo. Nello specifico l'uomo è risultato condannato in via definitiva per vari reati contro la persona ed il patrimonio in particolare per la violazione della normativa in materia di armi, rapina, calugna, resistenza pubblico ufficiale, ricettazioni e furto commessi in Catanzaro e nella provincia di Reggio Calabria dal 2014 al 2017. Consistente la pena da eseguire parliamo di 8 anni e 4 mesi di reclusione, un provvedimento che probabilmente ha ulteriormente ingenerato nel rosarnese la volontà di darsi alla latitanza. I carabinieri attraverso una continua attività investigativa, sotto il costante coordinamento della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, non avevano mai interrotto le ricerche del soggetto. In particolare divenute più stringenti negli ultimi mesi, inoltre del provvedimento anche di cattura. Al momento sono in corso le procedure finalizzate all'estradizione del soggetto, che al rientro in Italia sarà posto a disposizione dell'autorità giudiziaria regina, proprio per scontare la pena su cui è stato condannato. L'arresto di Bellocco Michele si inserisce nell'ambito di un ampio progetto fortemente voluto dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, guidata dal Procuratore Generale, parliamo di Gerardo Dominiani, che ha rafforzato il coordinamento delle attività delle forze di polizia per la ricerca e la cattura dei latitanti destinatari di provvedimenti definitivi, che può già vantare in poco tempo importanti risultati.